Musica Ti piace League? Ti piace League? Poi sento le voci che dicono sento qualcuno ogni tanto mi fa Ma io gioco a League per divertirmi Cosa cazzo ti diverti che quando entri in game dopo 5 minuti c'è uno che ti fa tiltare come un flipper Cioè dobbiamo come back un game perso questo pezzo di merda con le mani unte con la salsa del McDonald alla senope piccante così figlio di Troia schifoso Mamma mia che tilt 30 minuti di come back rovinati da un verme 30 minuti di come 30 minuti di come vai cazzo vai 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 cazzo bravo bravo cazzo bravo cazzo che vince erogni slo-grove erogni slo-grove erogni slo-grove erogni slo-grove erogni slo-grove veramente slo-5 smoking pochi io no se vinco sto g vince io non ci voglio credere vedete che le parole servono perco scrivo a casa PENTAKILL cazzoichero un verme scrivo a scrivo a casa casa diventa FAKER Che la gente mi bana per stare Ho vinto il game Ci hanno bannato Ma per ogni persona Per ogni account bannato Un nuovo account sorge Ed è questo qui ragazzi Aver presente il calendario cinese L'anno del topo L'anno del maiale L'anno del proido Quelle cazzate lì Questo è l'anno di Marco Giordano Sicuro al 100% Sicuro al 100% Marco ieri mi ha dato un po' di Marco ieri un po' Mi ha dato Mi è sembrato un po' rasti Marco Giusto? Un po' piccante Un po' croccante Marco Ora è bello sveglio Ci hanno bannato ieri ragazzi Non ci possono Non ci possono bannare tutti Tutti gli H In America Veramente E faccio lo streaming live Mi porto Woody Che con la telecamera Mi riprende Faccio lo streaming live Woody Stai scammando la chat E vado a trovare Marco Perché voglio fargli due domande E basta Fine Ci saranno dei momenti morti Lo schermo diventa nero In certi punti del film E Marco potrebbe cambiare idea Su quello che sta dicendo Maestro lei è tipo Johnny Lawrence Mentre Paolo Kellon È Daniel Lì Ma L'avversario è quello stannato L'avversario è quello stannato Ma che cazzo fa? C'è un nemico è stato C'è un nemico è stato Così Andiamo sulla trappola E non muore nessuno Non muore nessuno Perché è morto il maestro Vai Kate 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 L'acrivento Kate Trappola Kate Basic Kate 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 Che schifo Dio mio Che schifo il gold Che schifo il gold Non è vero Io non ci credo Che la gente Come cazzo si fa a uscire dal gold Se sei gold Se trovi sta gente qua Kate Che Ragazzi il sito non funziona Perché in arrivo una promo un po' Forse non dovrei dirlo Una promo speciale ragazzi Domani esce il nuovo world to level up Green wizard Mago verde Giusto il mago verde Che è pronto a devastare Con la sua magia al server Domani uscirà la promo 2 per 1 Senna Io provo Io provo Io ci provo Io ci provo Ma quando ci vuole Ci vuole Ma ce l'avevo già smutata Quella global Senna Senna Enjoy last 20 Keep being annoying Doesn't matter Fucking boosted animal Ora la tolgo Perché non dovevo scrivere Ste robe Veramente ragazzi Quando ci vuole Ci vuole Senna non sta facendo un cazzo Tutto il game È lì solo per rompere i coglioni È lì solo per rompere i coglioni Oh ragazzi Quanto sono? 9-0 8-0 Se sono meno Se prendo meno Di 20 LP Se sono meno Di 20 LP Quelli che prendo Tilto come un porco 8-0 9-0 Cazzo della ricompensa Più 19-0 Più 19-0 Più 19-0 Più 19-0 Più 19-0 Ripetetevelo in testa Molto probabilmente Ti hanno intato Verò Che cazzo è sta roba? Cos'è sto rumore? Oh no Guardate come si fa Cin 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 Ciucchiami il cazzo Lo sapete già qual è il mio obiettivo? Diventare il numero uno Di Twitch Italia in generale Quello che è un altro step Stai tranquilli Non è l'obiettivo finale Quindi Se questo vuol dire Andare a fare il culo Agli altri Sugli altri giochi Andare a fare il culo Io ora Prendo esempio Streamer Semidecenti Power Se vuol dire Se rompere il culo Power su Warzone Lo farò Se vuol dire Rompere il culo Ad altre persone Su FIFA Lo farò Tanto ragazzi Rispetto a League Quei giochi Posso giocarli Bendati Con le mani legate Con i monitor spenti Perché quelli Rispetto a League Sono giochi per bambini Senza offesa Oh oh Sono forti A Warzone Oh 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 L'elevenente dell'analogico Oh Lime assist Bravo Bravi Siete forti Ah bel flash Perché Allora io ve lo giuro Su dio Io ve lo rivedere Dopo guardo la clip Ho già parlato Abbastanza di fragola Una persona Che non ha titoli Per me Non può neanche Permettersi di parlare A una persona Come me Sinceramente Parlare di League of Legends Dico eh È come dire a Cristiano Ronaldo Cristiano Secondo me La Ronaldo Chop Si fa in questo modo Ma va in figa De tuo mare Ha sbagliato persona Che cazzo fa questo Ciao Perché è immortale? Perché era immortale? Perché era immortale? Kazix Kindred 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 We are your teammates Kindred You have You have to save Your teammates Oh no Fucking Maria Teresa Oh no Oh no Io conosco che Kazix È qua che troppo adesso E invece è qua E ce la fa anche Salta anche su di me Kazix Ti prego Di Tristana Qualsiasi è hint Proprio Ma hint A livelli improponibili Dovrei averci il 100-0 Il punto è quando Riusco a scappare Cioè se riesci A fare La passiva Quando Tristana Sta saltando via Giusto Sapete come si chiama Sta roba qua Si chiama Player Difference Si chiama Si chiama Player Difference Ti giuro se Dio Che Pike Questa play qua Si avrà per sempre Per sempre In testa Perché non sarebbe Mai dovuto morire Mai